1, 2, 1, 2, 3, 4 Ritis Constatina Vicius, la mostra di arte contemporanea intitolata La mia narrazione sul mondo che mi circonda, giunge a conclusione il 1 aprile del 2024 a Muccia. Numerosi i visitatori giunti da varie zone d'Italia e dall'estero, come questo gruppo composto da ragazzi che proveniva dall'Argentina, Brasile, Guatemala, America, dalla California, guidati da Anna Stengert, la quale ha tra l'altro introdotto la conoscenza di questo grande artista dalla Polonia nelle Marche. Numerosi gli articoli di giornale pubblicati su questo artista dal grande talento. Le sue opere di elevatissima qualità e bellezza meravigliano sì gli occhi, ma toccano anche il cuore. Il dialogo infatti con il visitatore è accessibile e profondo. L'arte di Ritis Constatina Vicius è un'arte molto comunicativa, aperta al mondo in totale libertà, coinvolgente. L'artista ci ha accompagnati in un volo straordinario sulle situazioni sociali fino alla riflessione più intima e individuale. La sua è un'arte che racconta la particolare tecnica della scultura in ceramica, sì, la bellezza dei colori, le sensazioni, ma anche la cultura nel concetto spresso nell'attualità delle sue sculture e dei suoi dipinti. Per Art and Territory è stato un piacere promuovere i suoi capolavori in questa piccola città di Muccia, nell'entroterra maceratese, che insieme alla ricostruzione dei palazzi distrutti dal sisma del 2016, si impegna anche nella ricostruzione del tessuto sociale e culturale, appunto anche attraverso l'arte contemporanea.